La conferenza stampa delle minoranze sulla stroncatura del progetto Genius Center arrivata da Roma è anche l'occasione per replicare alle dichiarazioni rilasciate dal vice sindaco Andrea Zonta che ha parlato di immobilismo e mancanza di idee da parte della precedente amministrazione sul futuro del Santa Chiara. In realtà noi avevamo ottenuto due risultati nel corso della passata amministrazione di mantenere il finanziamento, non un prestito, un finanziamento di Fondazione Cari Verona avevamo fatto riavviare i lavori con la ditta Vardanega poi è fallita la ditta, quindi non è fallita l'amministrazione perché non aveva idee o non aveva i soldi con questa amministrazione per quattro anni e mezzo non si è mosso un mattone. Dichiarazioni, quelle di Zonta, che sottolineano i consiglieri di minoranza suonano come uno slogan da campagna elettorale. Ci si può costruire una favola da raccontare, senza nessuna offesa, ma una favola da raccontare. Aspetta a noi, insomma, che siamo all'opposizione, convince la cittadinanza che non si amministra con le favole, con le buone intenzioni, ma si amministra con progetti seri. Il candidato sindaco Andrea Zonta ormai è in piena campagna elettorale sta cercando di trovare qualcuno a cui dare la colpa di non aver fatto nulla in questi quattro anni e mezzo. Però io poi ricordo che quando la ditta che si faceva i lavori qui al Genius Center, Polo Museale Santa Chiara, è fallita, in amministrazione c'era Andrea Zonta.